Benvenuti a tutti in un nuovo episodio di Circle. Benvenuti a tutti. Oggi abbiamo qui con noi Stefano Taddei, un giovane imprenditore, ti rivenisco giovane, giovane papà, giovane imprenditore che è attualmente proprietario della sala ricevimenti Sigillo e che appunto si occupa nel campo della ristorazione e dell'accoglienza dell'ospite. Prima di partire con la puntata vorrei ricordarvi di iscrivervi al canale, di mettere un like, condivisioni e quant'altro e di seguirci sui vari social, Instagram e quant'altro. Fatelo, fatelo perché ci aiutate e ci date una mano. Allora iniziamo così veloci. Come è nato il sigillo? Così, veloce, stecca. Perché non molti. Come è nato il sigillo? Allora partiamo dal presupposto che mio padre avrò preso da lui. un visionario, quindi aveva visto su questo pezzo di terreno qualcosa che mai nessuno avrebbe mai pensato di fare. Quindi partiamo dal presupposto che io nasco da una famiglia non di ristoratori. Quindi ha voluto investire nel territorio avendo un'altra attività a lui, quindi occupandosi di edilizia. si è buttato in questo campo e giustamente poi andando avanti ho proseguito. Però ringrazio lui a vita. Per aver insomma dato il via alle danze. Sì, sì. In merito a questo per esempio, qual è stata la motivazione che ti ha spinto a portare avanti questa cosa? Eh, allora, raga, ci sono tanti motivi. Vabbè, il primo è che ovviamente non tutti hanno la fortuna di trovarsi poi una situazione lavorativa come la mia o come altre in mano. Quindi a Pisticci si dice hai il pane e non hai i denti e viceversa. Io ho cercato di avere un po' tutte e due, pane e denti e mi sono buttato in questa avventura molto molto bella perché secondo me è il lavoro più bello del mondo. Quindi è partita, è partito tutto come un gioco. Ok, quindi stavo vicino ad amici con la quale dividevo questa mia passione di inizialmente fare il cameriere, il barista. Quindi tutti i lavori che da giovane diciamo ti danno la possibilità di lavorare, stare in mezzo alla gente, divertirti, metterti un po' di soldi in tasca, uscire la sera. Quindi hai l'età giusta per poter fare tutto, per poi ovviamente condividerla con tante altre persone. E' spettacolare. E per questo tu hai fatto altre esperienze prima? Io ho fatto altre esperienze. Ad un certo punto della vita lavorativa ho deciso di andare a lavorare sotto altri padroni, ok, che non fossero mio padre, mia madre, il direttore all'epoca della struttura, della mia stessa struttura, perché avevo un po' diciamo già le idee chiare su quello che dovevo fare da grande. Quindi se, come vi dicevo l'altra volta, se non sai farlo non puoi comandare, ok? Quindi non puoi dare anche il consiglio ai tuoi ragazzi. Quindi ho fatto la mia gavetta, ma non solo nella ristorazione, io ho fatto il muratore, ho fatto il giardiniere. E' sperimentato vari ambiti. Bravo, sia nella ristorazione che nell'edilizia, nell'agricoltura, fatti sempre con la voglia di imparare e di divertirmi. Ma sembra il luogo oppure anche altrove? Anche altrove, anche altrove. Anche fuori Italia? Anche fuori Italia, sì, ho provato, ma poi si è trasformato in una vacanza, fondamentalmente, perché ho cercato di lavorare all'estero, per un periodo l'ho fatto, però poi ho stoppato, dico sai che c'è? Mo mi fermo, mi diverto. Ma sì, tanto. E poi ricarichi le pile. Ricarico le pile, tanto alla fine dove ho lavorato non ho avuto la possibilità di un insegnamento per quello che cercavo, cioè poi dare insegnamento io agli altri, no? Quindi abbiamo fatto una sorta di lavoro vacanza, molto bello, molto bello. Consiglio a tutti i ragazzi di farsi le classiche stagioni fuori, sia estive che invernali. Nei villaggi turistici, negli hotel, per poi crescere. Sì, è una bella esperienza. Ma guarda, il lavoro della ristorazione, da ristoratore, da cameriere, mettiamo così, o da cuoco, o da qualsiasi altro mestiere che puoi fare nella ristorazione, lo devi fare in primis perché ti dà la possibilità di stare in mezzo alla gente. Quindi stando in mezzo alla gente, secondo me è già la base per partire, per fare tutti i lavori di questo mondo. Capisci un attimino chi c'è attorno a te, capito? Quindi anche se non sarà il lavoro della tua vita fare il cameriere, il cuoco, il barista, qualsiasi cosa che ha a che fare con la ristorazione, però secondo me fatelo. Perché è molto importante conoscere le persone. Ti aiutano allo sviluppo delle relazioni umane. Tantissimo. E tutto questo bagaglio formativo a livello lavorativo ti ha aiutato poi a sviluppare quello che è oggi il sigillo? Già dalla base del buon gusto della sala, del pavimento, già da queste piccole cose, allo sviluppo di uno staff è quanto aiutato oppure hai dovuto sbattere pure tu la testa su determinate cose? Sì, allora devi avere tante idee. Devi girare, capire e mai puntare il dito verso altre persone che fanno il tuo stesso lavoro e sminuirle. Anzi, devi andare, vedere, capire, rubare, ok? Rubare con gli occhi. E bravissimo. Portandotele poi a casa tua, muovendole, quindi le devi plasmare un attimino per renderle tue. Non fai un copia e incolla ovviamente, se no è facile per tutti. Anche perché determinate cose che funzionano a un'altra ora e non funzionano. Anche perché, come tutte le cose, il mondo della ristorazione e nel mio campo del ricevimento è una moda che sta andando avanti a grandissimi passi. Quindi se non li stai dietro, che sia sull'effetto visivo, sia sulla questione cucina o servizio in generale, devi starli dietro. Ti devi aggiornare, hai capito? Anche aprire nuovi spazi per dare la possibilità all'ospite di goderseli durante la giornata. Sono momenti importanti. Adesso non si va più al ristorante, ok, mi siedo, mangio e me ne vado. Ma le devi dare qualcosa pure attorno, da fare e da vedere. L'esperienza. E' un'esperienza. Ma è come quando andiamo noi, quando usciamo, andiamo, vabbè, classica pizzeria, perché vogliamo mangiarci una pizza. Ce ne andiamo, abbiamo passato la mezza serata. Però quando decidiamo di andare in un posto molto bello, ok, si mangia anche bene, è una bella esperienza. Quindi parliamo di esperienze. Mi è venuta in mente questa domanda che ti avevo già pensato. Tu, per esempio, negli ultimi anni hai notato un cambiamento, magari anche significativo, tra le persone. Magari sia a livello economico che sociale. Allora, raga, a livello economico sì tantissimo. Ovviamente questo ne abbiamo risentito ancora di più per la situazione Covid, eccetera, eccetera. Ok, quindi tante famiglie, tante persone non hanno potuto e ad oggi non possono permettersi anche di andarsi a mangiare una classica e semplice pizza. Ok, quindi è abbastanza duro come discorso questo, perché abbracciamo tantissima parte della nostra popolazione che ha bisogno anche di uscire. Quindi sul fatto economico, nel mio caso, sto cercando di dare la possibilità a tutti di venire da me, dargli un giusto prezzo, godersi una bella struttura, un buon servizio, una buona accoglienza, eccetera, eccetera. Per la situazione è cambiamento sociale. Il cambiamento sociale, raga, il cambiamento sociale, che vogliamo dire? Allora, nel nostro settore si dice, guarda, adesso sono tutti MasterChef, ok? Quindi cerchiamo di far capire alle persone che vogliamo mangiare bene, vogliamo passare una bella giornata in struttura, vogliamo fare tutto, però dobbiamo anche capire che soprattutto noi italiani e soprattutto gente del sud abbiamo una situazione culinaria che è la base poi della nostra cucina fantastica, ok? Quindi poi sta a noi un attimino modificarla, dargli quel tocco in più, renderla accattivante. La gente deve capire che è inutile cercare qualcosa di troppo estroverso, qualcosa che non sai manco tu che cavolo vai cercando. Hai capito? Quindi la situazione sociale nella ristorazione è cambiata tantissimo perché sono molto più esigenti. A mio avviso tante persone, non mi fraintendete, rimangono un po' ignoranti su questo, ma ignoranti nel senso che, ripeto, non cerchiamo qualcosa che non conosciamo, andiamo sempre alla ricerca di quello che conosciamo, degustiamolo, proviamolo, assaggiamolo, godiamoci la serata, godiamoci la giornata, dopodiché mangiate bene, punto. Sì, sì. Parlando un po' di cibo, perché poi se andiamo in altri discorsi, da quando arriva l'ospite, non tutti ovviamente, ma quella piccola percentuale... Trompa la palla, scusate. Però dai, siete un po' pesanti. Invece di godervi veramente la giornata, è una giornata di festa, anche perché, raga, ci siamo detti, io organizzo feste, quindi tutto dettagliato, tutto molto buono, tutto bello ordinato, però fondamentalmente noi andiamo in un ricevimento per una festa, ok? E ma mangio buono buono, ovvio. Sì. Però. Sì, ma questa è proprio una cosa, noi diciamo sempre, l'abbiamo detto già altre volte, in altre puntate, proprio degli italiani, che ormai siamo dei sindacalistici, dobbiamo sindacare su tutto, qualsiasi cosa, tu devi mettere la tua opinione, anche se non c'entri nulla. Cioè, se io mi mangio a casa mia pane e pomodoro, io ti vengo a criticare il tuo spaghetto allo scoglio. Bravissimo. Faccio un esempio. Vabbè, ho avuto gente che si è lamentata del prosciutto, forse ero abituato a mangiare un prosciutto così, io gli do anche un buon prosciutto di Parma. Se no non c'è non ci facciamo. Purtroppo, purtroppo, ma quando, sempre nell'ambito sociale, tu hai fatto i primi passi con questa struttura, hai svolto anche un'analisi di mercato a livello di luogo? Allora, sì. Oppure ti sei mosso per la passione? No, vabbè, la passione sì c'è, però la passione, raga, poi la devi mettere un attimo da parte perché poi devi pensare. I numeri concreti? Non ti puoi buttare senza paracadute. Guarda, io ho la fortuna di fare qualcosa che a me piace, ok, rispetto ad altre che non hanno questa fortuna, però fortunatamente hanno un lavoro, grazie a tutti. Qual è la domanda? Sì, hai fatto un'analisi di mercato nel luogo. L'ho fatta, ho capito che anche avendo altre strutture attorno alla mia che facevano lo stesso mio servizio, davano il mio stesso servizio in parte, perché, dico in parte, perché io mi sono reso conto che parte qui nella zona mancano un po' di posti letto, chiamiamoli così, ok, quindi io ho la fortuna di avere anche questa possibilità di dare posti letto, di dare una zona relax, solarium, piscina, di avere una sala ricevimenti dove organizzo banchetti di ogni genere, principalmente matrimoni, però poi ovviamente, come vediamo, anche il piccolo compleanno, piccolo, si sta trasformando in grandi cose. Quindi riesco a fare un po' tutto nella mia location, perché ho una struttura dove ha più location, quindi ho delle parti interne, ho delle parti esterne, ho le camere, ho la piscina, ho un'altra sala che purtroppo al covid l'abbiamo chiusa, ma a fine settembre, inizio ottobre, ripartiremo, faremo, ma guarda, tipo questa, adesso un'analisi di mercato, eccetera, eccetera, adesso mi collego un attimo a questa situazione qua che sto ricreando, sto riaprendo la vecchia sala, chiamiamola sala piccola, quindi la vecchia masseria, anche perché voglio dare la possibilità, ritorniamo al discorso di prima, a tante famiglie, a tante persone, di venire in un posto e trovare tutto il prodotto tipico, buono che noi abbiamo, non trovare solo ed esclusivamente la classica pizzeria, quindi farti una cena, un pranzo, con un giusto costo, quindi dove la famiglia ha la possibilità di uscire e dire, un padre che potrà dire, ah, sono riuscito a portare la mia famiglia a cena e non ho speso tanto, ok? E non è facile, ma perché questo non è facile? Aspetta un attimo, non è facile? Per me non esiste, onestamente, non pecco di presunzione. Volere e potere, quindi per me organizzare dei giusti prezzi è molto semplice, perché a parte che ho un buon team dietro e non parlo solo dei miei dipendenti, parlo anche dei fornitori, perché se tu non ti siedi col fornitore e non ci parli, non gli spieghi la situazione, perché il fornitore stesso è anche lui una persona, un padre di famiglia, quindi ti riesce anche a capire e si arriva ad un punto dove ci possiamo incontrare e realizzare qualcosa. Quindi impossibile per me non esiste, hai capito? Se una cosa ce l'hai in mente, ci provi, ok, va bene, non ti è riuscita, ma non è che è impossibile. La muovi, la smuovi, però cerchi di farla in qualche maniera, sempre farla bene però, eh? Sì, 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 sì. Ritornando alla domanda di prima, il fatto dell'analisi di mercato e quant'altro, c'hai detto della concorrenza, delle sale limitrofe, c'hai detto che tu hai più servizi per questo. Io ho molti più servizi, però non mi piace chiamarla concorrenza, io li chiamo amici più che altro, quindi non sono concorrenza. Per questo la vivi bene? La vivi bene perché se io ho bisogno di qualcosa, non mi faccio problemi ad andare a bussare e dirgli ho bisogno un attimino di questo, me lo puoi dare, mi puoi aiutare, così io posso aiutarti a tua volta. Per esempio su questo, hai fatto magari delle collaborazioni con altri hotel, ristoranti, sale? Io sono sempre in collaborazione, pura, guarda, ritornando al discorso delle camere, io do la possibilità alle strutture mie vicine di usufruire dei miei servizi e viceversa. Io collaboro con loro, loro collaborano con me, ma non solo quelli della zona, ma anche fuori, parlando, non voglio andare oltre perché poi è inutile appoggiarsi a strutture che si trovano, che ne so, a Ginosa, no? Però ho bisogno di una mano, di un hotel che si trova a Poligoro, chiamo Vito e mi faccio dare una mano e lui lo fa con me, chiamo Bernalda, chiamo Novasiri, eccetera, eccetera, chiamami da Ponto perché poi mi sono creato una cerchia, sì, una cerchia di amici, di collaboratori, ok? Che ci sono, non... Sì, no, comunque c'è... Io vado d'accordo con tutti, che poi c'è quello che diceva, ma Stefano è Nostrunz, ci sono sempre problemi tuoi, hai capito? Quindi a me che cazzo... Sì, io sto in pace colmo... Ma che cazzo, non ci sono un sacco di problemi... Ma io devo pensare di andare a lavorare, far sta bene, in primis i miei dipendenti, poi i miei fornitori, poi gli ospiti, perché secondo me questa è la catena da seguire, poi lo Stato, vabbò... Ma poi io devo ritornare a casa, stanco ma felice, hai capito? Non è che chi è tornato a casa col pensiero che quello di quell'altra struttura abbia potuto dire o pensare, ma che cavolo me ne frega a me, quindi vivete tranquilli, godetevi la vita, divertite, i problemi ci sono, c'erano, ci sono, ci saranno, quindi state appreste lo problema, non te ne esci più Senti, mo ti faccio, perché dopo tutta sta parentesi, comunque è bella, abbiamo detto che è bella, ma ti diamo una steccata un po' triste Qual è stato il momento magari più difficile, non lo so, una difficoltà grossa che hai dovuto passare, non lo so, magari anche durante un evento, un periodo specifico, in generale? Sì, più preciso Eh no, è un periodo generale, può essere una situazione strana Non è un periodo di questa attività, ci sono stati solamente momenti positivi e negativi? No, 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 ma ci saranno anche, di nuovo ritorneranno alcuni problemi E come li hai sorpassati quelli negativi? Ma li ho sorpassati con molta calma, ovviamente Non sempre con sangue e freddo, non ti sei fatto prendere delle emozioni? Inizialmente no, perché quando poi io ho ricominciato a fare i ricevimenti, dopo che ho fatto tutte le mie esperienze, era il 2012-2013 Quindi già a partire, perché sono voluto partire a 3.000, sai, carico, senza il pensiero di poter avere un problema Poi quando è capitato Dico, e mo, che cazzo faccio? Io non vi nego che una volta ad un problema, non voglio dire qual è stato il problema, ma è stata veramente una stupidaggine che adesso ci penso Mi sono chiuso nel mio ufficio, ma l'ho fatto anche perché sapevo di avere dei collaboratori che mi appoggiavano, hai capito? Durante questa situazione, durante la serata Quindi me ne sono dovuto andare in ufficio Quasi mettendomi a piangere, ero giovane, non riuscivo a capire come affrontare quella situazione Sì, giustamente Però, e tante altre situazioni che sono capitate, dove ovviamente Quando si sbaglia, lo devi ammettere Quindi, sbagli, lo ammetti, chiedi scusa Li offri anche una cena, un pernotto, un qualsiasi cosa per scusarti E poi ritorni un po' sui tuoi passi Però è stata dura È stata dura Non voglio dirvi qual è stato il problema, diciamo così Sì, sì, vabbè, lasciamo stare Facciamo le domande Ti vorrei fare l'ultimo Ce ne sono stati, raga La cosa importante è che innanzitutto creati qualcuno che ti dia supporto sempre Mai qualcuno che dice Ok, c'è sto problema E muo come fa Innanzitutto Come dobbiamo fare Lo vediamo subito Ma intanto il problema lo sappiamo Mettiamolo da parte e cerchiamo la soluzione Perché se poi ti fossilizzi su quel problema non tenesci più E quindi ci vorrei Io ho passato più di tre anni, due anni Per capire un attimino come puoi poter procedere Sì, giustamente poi devi fare le tue esperienze Ci sono state occasioni dove io ho mandato a casa tanta gente Perché in quel caso mi sono sentito pure offeso Perché avevano offeso anche i miei ragazzi Durante un buonissimo servizio E mi alzai E gli dissi allora E una tavolata da 40 persone All'inizio 2013 E gli dissi allora Finite di mangiare Vi sto servendo il primo piatto Il secondo piatto non ve lo servirò Perché ancora lo dobbiamo mettere in preparazione Vi alzerete Non mi pagherete E ve ne dovete andare Punto Una scelta dura Una scelta dura Però poi ritornando al sociale delle persone Anche un po' prima del covid già c'era E quindi io quando poi vedo che il servizio dei miei ragazzi Sta andando alla grande E trovo davanti a me gente maleducata Che li tratta male Che si lamenta di qualsiasi cosa inutile Io sono questa persona Innanzitutto porta rispetto E poi possiamo parlarne Ci sediamo Con calma Non davanti poi a tutti Mi spieghi il problema Lo risolviamo E io sono il primo a dirti Ok guarda domani Ritorna con tutte e 40 le persone Che te lo offro io Se abbiamo sbagliato Ti vorrei fare un'ultima domanda Per chiudere questa prima parte No fatemi un sacco Fino adesso abbiamo parlato del passato Eh Cosa c'è nel futuro? Nel futuro? Tantissimi Che ambizione Cosa Allora Io sono uno che non si ferma mai Ok? Io sono quella persona che Tutte le mattine Deve fare qualcosa di nuovo Ma non perché la giornata Mi porta ad avere sto pensiero Che mi sveglio Facciamo qualcosa No Io cerco sempre di Svegliarmi la mattina Dare una sicurezza A tutti Che sia Sia la mia famiglia Che i miei ragazzi E poi ricrearci qualcosa di nuovo Che non vi sto qui a dire No spoiler A parte la sala che riapriremo Che porterà In primis Al nostro paese Qualcosa in più Ma non qualcosa che non c'è Quindi noi facciamo qualcosa Di nuovo Di innovativo Perché l'innovazione Purtroppo qua Non potrà mai arrivare del tutto Noi siamo gente Chiamiamoci umili No? Che Ed è giusto Andare poi cercare Di andare a cercare Qualcosa di più Innovativo Diciamo così Un po' fuori dal nostro Perché è anche una sorta di uscita Che ci dovremmo fare Quindi Ritornando al mio discorso Ci sarà in futuro Per questo ci sono già Delle base Di fondamenti Tante 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 novità Tante novità Sia sull'ambito Della Dell'accoglienza Del ricevimento E sia anche per il benessere Dell'ospite In se stesso Interessante Integante Sì 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 Saremo ricchi tutti Ecco questo Si spera Ti vorrei ringraziare Per questa bellissima Giacchierata Che abbiamo fatto E basta Tanto buono Ci rivediamo Alla prossima In cui Stefano risponderà Alle vostre domande Sperando che abbiate fatto Buon lavoro Che piacere Perseguite questi ragazzi Sono fenomenali Grazie mille Troppo buono L'abbiamo pagato Per farglielo dire Alla prossima Ciao